Bocciata dalla minoranza consigliare la prova di chiusura del lungomare San Marco di Agropoli effettuata nello scorso weekend dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola. Fortemente criticato, il primo cittadino è stato accusato da Gisella Botticchio, Lega Agropoli, Agostino Abate, lista civica ABC e Mario Pesca, Movimento 5 Stelle Agropoli, che intervenuti in diretta su Cilento Channel hanno espresso le loro conclusioni. Il mio ruolo di consigliere di opposizione non lo possa esercitare solo ed esclusivamente con il mio pensiero oppure con le mie vedute. Io sono contrario alla chiusura del lungomare per un semplicissimo motivo tecnico, cioè ritengo che la viabilità alternativa non sia edonea per poter sostenere questa chiusura. Detto questo, è chiaro che il popolo, i cittadini di Agropoli soprattutto, anche delle altre parti del territorio che vengono ad Agropoli, si dovrebbero far sentire. Gisella Botticchio ha incalzato con materiale video e testimonianze sul posto dove si è verificato il vero problema, l'ingorgo presso il semaforo di via Padre Giacomo Selvi. Sabato sera, ieri sera, è stata una tragedia, sono arrivati pure i camper. Poi quei poveri vigili urbani che aveva veramente tutta la mia stima a far girare e a far fare l'inversione di marcia ai camper, e i camper stanchi da lontano si sono trovati lì e tornare indietro dalla superstrada. Perché loro poi devi tener conto che chiudendo Agropoli Nord, l'uscita è Agropoli Sud, quindi tutte le macchine usciranno alla seconda uscita e se ti ricordi l'hanno messa a 50 perché dici che si doveva andare piano, perché la strada non era in sicurezza. Oggi la strada deve contenere, perché tutte le persone che non escono alla prima uscita usciranno alla seconda, adesso la strada è buona, loro combinano casotti in continuazione, non è competenza loro, sono inadeguati e a me mi fanno pure paura. Mario Pesca si è mostrato meno irritato rispetto alla botticchio. Il consigliere è stato sin da subito contrario, ma non esclude una possibile chiusura dopo una discussione seria affrontata dopo l'estate. Io ho avuto modo di incontrare tantissimi commercianti che si sono lamentati di come è stata fatta questa chiusura, si sono lamentati delle circostanze praticamente di essere stati penalizzati dall'Aggiudato del Boncomare stesso e credo che poi alla fine non avranno neppure raggiunto quello che era l'obiettivo di cui si era prefisso il sindaco Coppola, vale a dire quello di avere degli spazi fuori e esterni sulla strada, perché poi alla fine tutti i ristoranti, tutte le attività commerciali che vi sono sul Loncomare di Agropoli e San Marco di Agropoli sono rimasti nei loro spazi, quindi non c'è stato nemmeno questa occupazione delle strade così come si era prefisso. Quindi è stata una prova, ma è stata una prova negativa, quindi va sicuramente abbandonato questo progetto che è un danno enorme per l'intera città.